Siete sempre insieme? Sempre! Eh, ma... È così! Ma c'è una coscienza noi? Che potremmo anche trovare la via, perché senza coscienza si sta meno. Abbiamo un feeling lavorativo. Il nostro è il feeling lavorativo. Tu sei quello serio? Eh, ciò mi lasse, la serietà è la mia immagine, siamo avanti. Ah, vieni! Andiamo contro l'altro. Qui c'è Fabietto, lui? Chi è? Che sta guardando il suo gruppo famoso Cyberpunk, Numeri 1. Ma, Numeri 1 veramente? Ma cos'è? Stai facendo una visita guidata? Sì, invece di là c'è la cattedrale di Miche. Che di solito è il bagno. Numeri 2. Numeri 2. Perché sono i 2? Loro hanno detto che a settembre erano finiti, ma ci siamo quasi, perché era a settembre di quest'anno. Per cui, allora sono Numeri 1. Ah, si è sposticipata la cosa, si è allungata. Prima era a settembre, però era nel 2010. Poi, dopo ti farò vedere la torre degli Obey Obey, che è squalo, e la visita guidata. Poi prenderemo Upulman, andare a fare il giro turistico di tutta la Maradana. E siamo tutti allegri, felici e contenti. Ma, attenzione, una cosa sola vi voglio dire. Una sola ve ne vuole dire? Una sola. Una, mi raccomando. Occhio che c'è una sorpresa per voi, italiani, gente di tutto esaurito. C'è solo una sorpresa per voi, nelle prossime giornate. Settimana prossima, voi poi vediamo. Cosa succede? Eh? Tiro fuori l'arancione che c'è in me. Ah, mazza lui. E adesso vado dal dottore, perché lui si ammalò, e io devo fare l'ambarabacicicocò. Vado dal dottore per farmi vedere, da uno bravo però, attenzione. Non mi deve vedere da qua a qua, non mi deve visitare da qua a qua. Un po' più giù. Per cui siamo a posto, anche non tanto giù. Ah, ok. A metà prezzo. Sì, a saldo, a saldo. Tranquilli, non ci abbiamo niente, però sapete, vado a fare la marmita catalittica. La revisione della marmita catalittica e siamo tutti a posto, ragazzi, fratelli e sorelle. Vi auguro un bel 2011, perché mi porto avanti. Ciò, patatino. Metti l'arte, vedi l'arte, mettila da parte. Freak it away!